Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto fotocamere istantane e l'omografi Belire Instant. Want more ways to sort with the Belire? Take this camera out for a ride, load it with Fuji Instax Wide Film and say you're images in a snap. Make it wide. This camera back uses Fuji Instax Wide Film, not included in the package. Split second shots. Take the Belire Instant back and turn your Belire camera into an instant potomachine. This accessory allows you to play with the Belire's numerous features and say the fruits of your analog exploration in a snap. Medium format Frontier. Ushering in an exciting medium format experiences dell'omografi S Belire X612 Get Setter. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.